ciao ragazzi ed eccoci qua con un nuovo episodio di eFoodoo 2023 la nostra scalata la sua prima divisione senza spendere un euro ragazzi sono andato offline da solo diciamo negli eventi e ho iniziato l'evento starter che finisce fra 21 giorni 15 ore e facendo questo diciamo starter diciamo abbiamo preso un sacco di gp che ora andiamo a ritirare e vi vi faccio vedere posto in arrivo vedi premi pass partita 10.000 50.000 4.000 10.000 tutti evento starter o premi pass partita seconda vedi starter evento starter quindi pass partita evento starter li ritiriamo tutti e così facendo andiamo a 150.000 gp e andando a 150.000 gp ora riusciamo ad andare a prenderci altri giocatori interessanti visto che ci manca di andare a finire la difesa io direi di andare appunto a finire questa questa difesa e per andare a finire volevo andare a mettere un difensore incontrista a sto giro senza spendere però troppi soldi se troviamo qualcosa perché se non troviamo niente interessante di incontrista dobbiamo spendere tantissimo lo aggiungeremo magari aggiungeremo magari più avanti ok l'ho già visto che per degli incontrista incontristi di valore dobbiamo queste tanta roba allora niente l'incontrista lo andremo a prendere più avanti a questo punto non ci dobbiamo fissare sull'incontrista ma andiamo a fissarci sullo sviluppo perché di altri non ne voglio assolutamente mettere quindi sviluppo dov'è qua difensore di sviluppo e qualche nome ce l'ho già in mente senza andare a spendere tantissimo e avevo in mente stones però è normale un altro nome che era interessante era christensen normale 70.000 ragazzi gli direi di andare c'è anche ta il costante con a te non mi fa impazzire ragazzi andrei a prendere stones a 76.000 perché comunque lui gioca per processo palla non ha forma incontrollabile ma è un gran difensore ragazzi quindi andiamo a prendere stones a 76.000 e comunque 188 è un altro difensore che andiamo a prendere questo è molto valido è anche mancino il problema che è alto 1,75 è l'unico vero problema che ha della verità perché poi incontrollabile però magari per il momento potremmo andarlo a prendere leandro martinez è un po' basso però da tante soddisfazioni quindi fatto questo siamo riusciti a prenderli ci sono rimasti 4.000 gp però andiamo a sistemare la nostra difesa perché a questo punto andiamo a prendere lui i sostituti mettiamo giù lui e e e teniamo difensori alti ok e lui perfetto quindi andiamo a mettere il campo tinez e stones dell'altra parte perfetto stones 1,88 lui 1,90 e mezzo e lui più bassino a sinistra va bene andiamo a sistemare andiamo a sistemarli che andiamo un po' a potenziare poi direi di andarli a provare subito con una nuova partita ragazzi andiamo gli in 10.000 e un 2.4000 dai e vedete che il difensore sta già diventando perfetto cambia bene ragazzi eh guardate le statistiche cambia bene ai difensori che avevamo facciamo così facciamo così anche lui vedete che sono già appuntati per il possesso palla andiamo a mettere questi punti perfetti ragazzi poi andiamo anche a andiamo anche a dare un progresso pianice pisca mettiamo di facciamo un progresso giocatore a tutti i giocatori qua calica soprattutto cambiamento di livello facciamo un mille perché ragazzi calica voglio andare a dare anche un mille di posizioni e ok perfetto calica ci aumenta anche lui questi qua non mi interessano più adesso per il momento li lasciamo così andiamo quindi a provare una squadra non solo ho cambiato i difensori poi adesso è una squadra che ragazzi ha già più un criterio ha già più un criterio ragazzi i pellegrini tra l'altro non mi piace ve lo dico non mi piace perché ci ha dato un giocatore che ci ha cambiato il suo stile quindi andremo a rendere il suo progresso e prenderemo un altro giocatore chiave e prenderemo un altro giocatore chiave ragazzi andiamo subito a provare sesta divisione questa squadra avete visto che comunque in poco tempo siamo già riusciti a fare una squadra direi buona non è ottima ma buona e vi farò vedere come con questa squadra adesso cambia cambia parecchio la situazione con dei difensori comunque che sono in grado anche singolarmente quando non li guidiamo noi di mantenere magari la linea del fuorigioco di fare degli interventi anche da soli di stare in posizione comunque siamo contro uno che è della settima divisione quindi una divisione più bassa della nostra e stavolta abbiamo anche una squadra direi molto più competitiva però non sottovalutiamo mai l'avversario mai ragazzi mai sottovalutare l'avversario perché c'è una della gente che dopo vedi come noi stiamo iniziando poi dopo giocano molto molto bene perfetto direi perfetto andiamo a vedere la sua squadra ecco in questo caso ragazzi vedete non andiamo non andiamo a a a mettere marcatura nessuno in caso potremmo fare solo messi anzi andiamo a fare messi marcatura stretta centrale la punta perfetto comunque ragazzi è una bella squadra c'è anche lamparo perché lamparo 33 il zarazzo lo è appena preso come me vediamo che c'è un emare 80 cioè c'era dei buoni giocatori ma non sono potenziati quindi diciamo che più o meno la pari la partita anche se lui non ha dei giocatori messi come dovrebbero essere messi non sono messi bene in campo ragazzi un po' come l'altro molta gente non sa come si costruisce bene una squadra e questo il problema di molte persone con e e football poi danno colpa al gioco che i giocatori non girano che i giocatori non vanno la realtà è che la gente non ha ancora capito come funziona e football perché poi Konami questo non lo spiega molto bene ci devi un po' perdere la testa a te sono gremiti i cori vanno avanti già da un po' ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza nel caso sia di tifosi delle squadre in campo siamo sì già in difesa le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco celesti oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale partita già in corso di svolgimento e trova bene il compagno Mohamed Salah prova Salah ok non mi ha preso lo stop ragazzi errori che potrebbe metterli nei guai Bebeto può provare è stato bravissimo qua eh ragazzi è stato bravo lui eh non è culo questo eh è stato molto molto bravo ci ha messo il difensore molto bravo sicuro che è la piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato si sbagliava Fabio Luca secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? John Stones è davvero un giocatore fuori dal comune si vede raramente un difensore centrale così elegante e quando gioca la palla è attento e sicuro di sé chiunque voglia segnare avete visto cosa ha detto di nostro difensore? non credo che sarà un'impresa semplice è una verità ragazzi non posso essere d'accordo con te difensori molto forti quelli che abbiamo preso fidatevi hanno già e conquistato palla la gioca a sinistra soprattutto hanno tutti degli ottimi piedi per il possesso pallo e passa qui c'è il chiaro che parata certo non un intervento di routine una parata eccezionale ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano forse nemmeno i suoi compagni intercetta il pallone ben fatto la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla bravo ragazzi è bravo a fare il raddoppio quel giocatore qua è bravo a fare il raddoppio però se lo prendiamo in controtempo quando fa il raddoppio ci lascia sempre scoperto un giocatore e riusciamo ad andare in porta quindi dobbiamo stare attento a quella cosa qua quando lui fa raddoppio lo fa molto spesso a volte lo fa in automatico secondo me è veloce a farlo però non vorrei che a volte lo fa un po' in automatico va a finire che prima o poi sbaglia il giocatore da mandare perché l'ha già fatto e io non ho approfittato e lì noi dovremo approfittarne pallone lungo in verticale gran prova di forza palla recuperata e trovo il compagno perfetto ragazzi ha sbagliato ha fatto uscire il portiere ha sbagliato lui pressa molto ragazzi ci rimettiamo in difesa perfetto guardate bonucci che piedi che ha ragazzi anche le abilità tutti i tipi di passaggio mi sei stato un po' fortunato e corre in pallo è fuori gioco ragazzi ho provato ad annullare il comando del pallonetto passaggio scavalcare ma non sono riuscito ha il vizio di cerco il portiere non ha capito che non conviene adesso è andata bene che c'è Pedro non ha comunque dei piedi incredibili diciamo così vediamo che cerca molto Mbappé per andare via i cali la butta in mezzo e va a colpire di testa bella azione peccato non siano riusciti a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire c altura Già Pedro sala nessun passaggio fanta che classe attirato subito bebeto per caso vediamo prima che si è fatto superare grazie ai va con il passaggio corto e aveva capito è stato bravo è stato bravo a uscire io ho dovuto in qualche modo non so come mai la tua punizione ma ragazzi questo non ve lo so dire pensavo che la lua è sua ma troppo da solo come a P questo deve capire che non stiamo giocando a FIFA se avessimo avuto noi Mappé in quella situazione giocatore fantastico perché nello stretto nella velocità di tiro di Aragoglio oppure avevamo ecco avevamo Salah al posto di Bebeto avevamo Salah in quel momento lì Aragoglio perché Salah Mappé e siamo nell'intervallo e iniziano i secondi 45 minuti Bebeto la mette in rete perfetto ragazzi ora doppio vantaggio per loro e senza palla ragazzi si fa trovare sempre pronto ci hanno sicuramente un inserimento incredibile tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida azione fallosa e se ne avviede l'arbitro arriva il direttore di gara vediamo cosa decide scatta la munizione prevedibile sbagliato vede lo scatto e cerca la profondità Joe Pedro è libero di creare pericolo Joe Pedro supera il diretto avversario ha dovuto esagerare Pedro prova a prolungare in avanti lo sposta di peso e gliela porta via Bebeto può calciare se ne va con un gioco di prestigio Mohamed Salah Salah mamma mia mi è andata bene ragazzi qua mi è andata bene però vedete la mia squadra è come sempre coperta quando i giocatori sono piazzati bene sbagliato provano a partire in velocità tocco preciso occhio alla conclusione pacchetto ragazzi abbiamo stato appena esce facciamo dei cambi subito il gatto chiudiamo in due vedete vedete che bel giro come gira bene la squadra quando è messa bene ragazzi triangolazioni veramente fatte bene andiamo a cambiare Joe Pedro certo con i palloni di oggi ragazzi ora possiamo andare a mettere anche i pellegrini ma secondo me la cercana mi ha vantaggio poi ci chiudiamo un po' in difesa andiamo a cambiare il gatto qua è un po' stanco ci andiamo a mettere mantilla e basta vedete vedete che ancora lo teniamo su ragazzi ragazzi adesso possiamo anche prendercela con calma e parlare un po' di più perché ero un po' detto io non ho sottovaluto mai l'avversario anche se l'amo 2-0 su 3-0 sono già abbastanza tranquillo posso anche per me quindi di parlare e posso rischiare anche di sbagliare qualcosa di più allora ragazzi come avete visto abbiamo una squadra che gira molto bene il nostro avversario non è malissimo però c'è una squadra che non è messa bene in campo punto primo ha un po' troppo fretta sempre fretta butta subito la palla via vedete per essere un gioco dove devi avere un po' di calma devi fare il tocco di palla e quando vedete che presta molto si può anche tornare indietro quindi è andata bene che ci arriva il difensore credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione c'è un vero doppio non riesce a mantenere il possesso che anticipo sembra quasi prevedere il futuro ti vista anche avere il portiere con i piedi buoni stessa in portiere con i piedi buoni difensivi e dire tanto bello 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 questo è un gran bel gol questo lo puoi fare solo con giocatori di un certo tipo e infatti l'ha fatto con Lampard la palla si è impilata nel barco aperto dei difensori ah ragazzi non mi piace proprio Pellegrini so che è destro ragazzi ma c'ha comunque tira opposto alto tira opposto alto ma non mi piace non mi fa impazzire Pellegrini e fa su il rinvio degli avversari sceglie di andare per vie verticali sulla destra Neymar Martinez Lorenzo Pellegrini sicuramente se fosse se fosse con la sua abilità sarebbe meglio Pellegrini però comunque per essere un giocatore dietro le punte va bene come assist perché fa degli ottimi passaggi magari però dopo se si trova davanti al portiere non è un gran finalizzatore è alto quello si quindi può aiutare nelle palle alte però comunque non è il tipo di giocatore diciamo che mi fa impazzire Lorenzo Pellegrini vediamo se può capitalizzare passaggio splendido a una chance a spazio per cercare gol occhio alla conclusione grazie questa è mantilla il nostro due stelle ed è finita ragazzi abbiamo vinto anche questa abbiamo preso un gol ma è stato un gol un po' fortuito un tiro di Lampard incredibile è stato bravo ci ha creduto ci ha provato un po' per stizio un po' per nervosismo e ha fatto gol però ragazzi i dati parlano chiaro e la difesa si comporta molto bene quindi siamo contenti degli acquisti fatti siamo contenti di come sta andando diciamo questa serie questo percorso io vi saluto qui perché per questo questo episodio è un po' più corto ma vi devo salutare tanto proprio ho portato un'altra partita e abbiamo aumentato ancora una volta la squadra quindi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio mi raccomando mettete un mi piace commentate e scrivetemi chiedetemi qualsiasi cosa e ci vediamo in un prossimo episodio ragazzi questa è la squadra questa è la squadra e devo dire che mi sto trovando molto bene l'unico errorino peccato non è colpa nostra è stato Pellegrini e comunque fare il mio modo di sistemare quel piccolo problema non mi trovo tanto ok niente ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti